Buongiorno a tutti e a tutti i miei autori di questa rubrica L'Urci Zraebi. Mi chiedevo a fare una ricetta particolare, non so quanti di voi la conoscono, i cacciapuri. La pronuncia secondo me è terrificante. La pronuncia, secondo me è terrificante. Ciao, oggi vado a fare una ricetta particolare, non so quanti di voi la conoscono, i cacciapuri. La pronuncia secondo me è terrificante. тории in generale, i Cicapuri è la formula della produzione di Scusk a Vangelo, che ne vedono molto in generale notare i non vedono. Lo stesso è importante, perché è un po' più intera, e la vita di Cicapuri è un po' di nuovo. La cacera è un'altra ricetta di Scusse di Scusse. Chi è un po' di nuovo che si è il primo, è un po' di nuovo attivo che si è un po' di nuovo. Qui è un po' di nuovo. Per un po' di nuovo lavoro con il Icara, una ricetta di Scusse di Scusse di Scusse. La ricetta è un po' di nuovo un euro di Ecara è un po' di nuovo. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Noi sappiamo che lei ha Casa Papagallo, vero? Esatto. Nei momenti liberi io stavo seguendo abbastanza spesso e devo dire che anche ho cucinato tantissimi piatti secondo le sue ricette. Ma un giorno sul suo canale ha apparso una ricetta molto particolare, interessante non solo per me ma anche per i tantissimi georgiani. Questa era la ricetta della Jarian Khajapuri. La mia domanda è che rapportia con la Georgia e com'è venuta l'idea di cucinare questo piatto? Ma prima di ascoltare la sua risposta io devo ringraziare di cuore per diffondere la cucina georgiana in Italia nel modo giusto. E qui devo svelare anche un segreto. Nonostante che io sono dalla regione della Jaria, anche io cucino la Jaria in Khajapuri secondo la sua ricetta. Questo è molto bello. Allora, premetto una cosa che è importante. Io non sono mai stato in Georgia e ho una bassissima conoscenza della cucina georgiana, ma ho scoperto proprio attraverso il Khajapuri che è apprezzata da tantissimi italiani, cosa che io non mi aspettavo. Tanti italiani che sono venuti in Georgia l'hanno trovato in modo, tutti mi hanno detto che è qualcosa di strepitoso. Facendolo mi sono resi conto che è strepitoso, è strepitosamente buono. Uso questo italiano un po' eccessivo, però è vero. Prima di entrare in trasmissione ti ho chiesto un minuto, ho detto voglio andare a vedere una cosa. Ti voglio dire questa cosa qui che non è banale. Lo sai quante persone hanno visto quando abbiamo pubblicato noi il Khajapuri? È sorprendente, sono rimasto sorpreso anch'io. Tre milioni di persone solo su Facebook hanno visto la ricetta del Khajapuri. Tre milioni. Altra cosa, te la voglio far vedere se posso, guarda, questo è il primo libro che abbiamo pubblicato lo scorso anno. Guarda che ricetta, guarda dove l'abbiamo messo il Khajapuri, si riesce a vedere? È una ricetta che noi è, ci è piaciuta così tanto, noi l'abbiamo anche inserita nel libro. Una volta che l'abbiamo pubblicata sono arrivate valanghe di messaggi di persone che ci ringraziavano perché l'avevamo fatto vedere la ricetta che loro avevano assaggiato, come avevano solamente visto. Quindi sono tutti emozionati per questa cosa qui. Tant'è che a un certo punto, poi parlando con le persone, così ho detto, cavolo, forse è il caso che dobbiamo andarci e andarle a mangiare la versione originale. Quindi anche grazie a voi, io vi chiederò poi il favore di dirmi dove andare, come andare, che cosa fare, perché sicuramente sarà un viaggio che noi faremo. Le storie raccontate da lei per noi è molto emozionante. Il tutto il mondo lo sa che noi siamo un piccolo paese, abbiamo una piccolissima patria e in tutto siamo 5 milioni, da cui più di metà siamo sparsi in tutto il mondo, nei diversi paesi. E per noi ogni piccola cosa riconosciuta dai paesi europei, da un paese come l'Italia, è molto importante. Lo sapevo che questa ricetta è stata visitata dalle persone numerosissime. Questo si notava anche fra i georgiani, che purtroppo siamo tanti in Italia. Veniva condiviso con le emozioni ed è questo che mi dava l'idea che la ricetta è stata accolta. Ma averle visitato 3 milioni di persone, anche per me è sorprendente. Praticamente questo numero è equivalente alla quantità delle persone che vivono in Georgia. La cosa bella è, guarda, se mi fossi preparato prima ti avrei fatto avere anche il materiale. Non hai idea di quante persone mi hanno mandato la fotografia del cacciapuri rifatto a casa, ma non sto parlando di georgiani, sto parlando di italiani, italiani che sono tutti innamorati di questo piatto che non se l'aspettavano. Perché in fondo c'è un concetto, secondo me, molto bello di poterlo anche dividere, no? Noi spesso l'abbiamo fatto e poi prendevamo ognuno una punta e cominciavamo a rompere l'uovo e lo mangiavamo insieme. Ed è una cosa così tanto accogliente, così tanto bella, così diversa un po' dal fatto di mangiare la propria porzione da una parte quasi girosamente. Invece era, non lo so, forse l'abbiamo interpretato in un modo diverso da come lo mangiate voi, però per noi è stato fantastico. Che credimi, vedere una marea di persone che ti mandano la fotografia del cacciapuri fatto, per me è stata una soddisfazione gigantesca, gigantesca. Sinceramente una piccola nave della Jariang Khajapuri è una porzione per una persona, però in sé non porta l'idea come la pizza in Italia. La pizza viene presa da una persona e viene consumata dalla stessa persona. Condividere con gli altri in Italia è un po' inammessibile. La cosa che non avviene con la Jariang Khajapuri, è vero che ordina una persona, ma automaticamente avviene quello che racconta lei. Stacchiamo la punta della nave, inzuppiamo nel contenuto e mangiamo insieme. Ed è pazzesco che il piatto stesso ha potuto portare così lontano l'idea che tiene dentro. Qui voglio rispondere anche alla sua domanda dove si può mangiare migliora Jariang Khajapuri. Veramente questo piatto si trova in ogni regione della Georgia, però è nata nella regione della Jariang. Posso dirti una piccola cosa? Prima hai detto, noi siamo un piccolo popolo, nel senso piccolo come quantità, come numeri. Ed è vero, spesso e volentieri, io ora parlo sempre di cucina, solo di cucina. Quando si parla delle cucine, si parla della cucina francese, cucina italiana, cucina messicana, thailandese, cinese, queste cucine che poi sono state diffuse nel mondo in modo così capellare. Invece io ho trovato affascinante, questo mio percorso è partito dall'Albania, nel senso posti piccoli dove le influenze di vari popoli nelle varie migrazioni eccetera eccetera hanno portato a sviluppare una propria identità di cucina che è affascinante. Il fatto che siano piccoline, magari non tanto conosciute, non vuol dire che non sono buone, non vuol dire che non sono interessanti. Basta avere la curiosità, e io questa ce l'ho veramente tanto, di provare. È vero che la cosa migliore sarebbe poter andare nel luogo, assaggiare e poter riproporre, però io ho passato questi due anni di lockdown difficoltoso facendo proprio questo, andando a cercare, magari guardando video, ascoltando le persone che mi dicevano le cose e riproponendo, e facendo conoscere agli italiani delle ricette di cucine assolutamente misconosciute, la cucina bulgara, la cucina croata, la cucina, e compresa la cucina georgiana. Alla fine ho visto che l'italiano, che comunque l'italiano è un popolo curioso, ha assorbito tutte queste cose qui in modo affascinante. Posso dire, ma non perché ci siete voi qui, perché i numeri sono questi, il cacciapuri è stato... Veramente qualcosa di unico, di straordinario. È bella, questa è una cosa bellissima, secondo me. È una storia bella da raccontare. Voglio parlare un po' anche sulla storia della cucina georgiana. In questo momento stiamo parlando della Georgia, però questo vale per ogni paese che faceva parte dell'Unione Sovietica. Durante questi 70 anni che abbiamo vissuto insieme, la politica dell'Unione Sovietica ha frenato tutto e questo ha influito anche la cucina. Praticamente è vero che la cucina georgiana era molto diffusa nei paesi dell'ex Unione Sovietica, tanto quanto ora è diffusa nel mondo la cucina italiana o francese. Nei tempi si discuteva spesso il fatto che si diceva se non avessimo frontiere chissà dove saremmo arrivati. Ed è vero, appena sciolta l'URSS noi siamo andati lontano e tutto quello che abbiamo bello ha trovato la sua strada ed ecco siamo arrivati fin qui. Intanto mi interessa se avete in idea di fare un altro piatto georgiano. Allora, in realtà mi hanno suggerito molte ricette, io ho un file, io ti farei vedere questo file dove tutte le cose che mi mandano io le metto, mi hanno suggerito diversi piatti, però anche molto onestamente non l'ho provati perché ho sempre avuto l'idea di, ho detto andiamo, ora che è finito questo momento del covid terribile che per due anni ci ha tenuto un po' sospesi. In realtà avrei voluto fare questo viaggio e non è un viaggio così complesso da fare, non è che devo andare a Macau o in, che ne so, a Singapore, è molto più vicino. Per cui ho detto beh questa cosa che si fa e ci siamo fermati, un po' anche stupidamente perché poi alla fine siamo sempre travolti dalle cose e non riusciamo mai a fare, però è una cosa certa che io ci verrò, è una cosa certa che io riproverò altri piatti. Quello è assolutamente una cosa che farò, ma sicuro proprio. Fa piacere di sentire questa curiosità, saremo molto felici a ospitarvi in Giorgia. Alla fine, vedi, io credo una cosa che è importante, siamo diversi, siamo nati in luoghi diversi, abbiamo delle abitudini, un, come si dice, un, una storia diversa, però poi spesso ci troviamo insieme a un piatto, no? Un piatto unisce. Quello che dicevo prima, sì è vero, magari non si mangia in quel modo, si mangia in un altro modo, ma mettere qualcosa in tavola per far piacere agli altri, per poterlo poi anche in qualche modo abbracciarlo, ti fa stare bene. Poi non importa se te sei gialla, nera, rossa e questa cosa qui io la sperimento giorno dopo giorno nella cucina e poi è affascinante, quello che a me affascina è vedere questa connessione che c'è tra il modo di vivere delle persone, nei luoghi, quello che mangiano, come lo mangiano e così via. Una delle cose, guarda, ti racconto un piccolissimo aneddoto, stupidino, stupidino. Il primo viaggio che ho fatto in Grecia, l'ho fatto tipo 35 anni fa, ti sto parlando di un'era geologica fa, no? E io rimanevo affascinato nel guardare i greci che non prendevano il caffè al bar, al bancone come noi, ma si mettevano a sedere, facevano il caffè, il caffè, proprio il classico caffè, la turca, che aveva bisogno di depositarsi e vedevi che la vita si sospendeva, tutta l'ansia, l'angoscia, le persone si sedevano, parlavano e bevevano il caffè. Io da quel momento ho capito, vedi, nei posti ci devi, e dicevo tra me, nei posti ci devi andare, guardare come fanno e che cosa fanno, perché alla fine tutto questo ti porta a qualche cosa, perché io pensavo sempre, noi italiani andiamo al bar, caffè, via, caffè, via. Invece il mettersi a sedere, aspettare quel momento in cui si deposita la polvere, ti fa stare insieme agli altri, parlare, bello, vabbè, scusami. In effetti quello che racconti per me è presente, perché essendo i georgiani abbiamo molte cose comuni con i greci. Cosiddetto caffè time per me e per noi tutti i georgiani è molto sacro. Bire caffè insieme significa siedersi insieme, riposare, chiacchierare sorseggiando il caffè. In effetti per noi era molto strano quando siamo arrivati in Italia a vedere come si beveva il caffè al banco e si andava via. Devo dirvi che il caffè ristretto fino adesso per me è inaccettabile, perché il caffè deve essere lungo per sorseggiare più volte. Però io credo che sia l'attitudine a fare certe cose, nel senso noi italiani abbiamo inventato questo caffè così ristretto da bere così velocemente eccetera eccetera, però abbiamo creato il cappuccino che è qualcosa invece che ti permette di stare. Però pensa alla cultura americana, anche quello che si vede nei film e tutto, che prendono questi caffè giganteschi e lo bevono camminando, che non si fermano proprio, devono essere in tutto. È una cosa che a me, quando le vedo anche in televisione, mi viene l'ansia perché penso sempre, se lo facessi io mi scotterei, me lo rovescerei addosso. Cioè è terribile, invece, ma proprio anche come suoni, no? Io te l'ho detto, questa è una cosa che in Grecia la vedevo, tutto si rallentava un po', capito? C'era dei suoni che erano diversi invece del sempre continuo movimento e credo che noi abbiamo una vita che è veramente un continuo movimento. Ci vuole quel momento in cui stacchi, ti fermi e prendi un caffè? È bellissimo, davvero è bellissimo, ma io non voglio rubarvi molto tempo. Io spero che avremo la possibilità di ospitarvi in Georgia, così possiamo bere il caffè o sul Mar Nero o in alta montagna. E possiamo visitare tutta la Georgia, così potremo vedere tante cose nuove e belle. Grazie, grazie mille. Realmente, è un grandissimo piacere. Ano prossima. Amici fin da c'è matasso le bullie, me kem si dobbia bit momovale che vedramte.